Carmelo Furnari, 35 anni, dipendente di un'impresa privata, il nuovo assessore della Giunta di Santa Maria di Licodia, presieduta dal sindaco Totò Mastroianni. La nomina è giunta stamattina, seguita subito dopo dalla cerimonia di giuramento. Il completamento dell'organigramma della Giunta Municipale è arrivato dopo due mesi e mezzo dalle dimissioni di Ottavio Salamone, che a novembre aveva lasciato l'incarico in amministrazione, in seguito alla rottura operata da tutti i sanmartiniani presenti in giunta e consiglio, in aperta polemica con il primo cittadino. Fuori dalla coalizione, sempre fra i fedelissimi del deputato regionale Luca Sanmartino, anche l'attuale presidente del Consiglio Comunale Giovanni Butto e il consigliere già assessore Antonio Ladelfa, determinanti nella creazione di una nuova maggioranza trasversale in aula, che ha messo all'angolo in minoranza la coalizione governativa. Il neoassessore Carmelo Furnari è stato consigliere comunale a Licodia nel periodo 2012-2017 della lista primavera licodiese che sosteneva la prima sindacatura di Mastroianni. In quell'esperienza consigliare fu pure capogruppo di maggioranza. Mastroianni non ha ancora conferito le deleghe al neocomponente della sua giunta. Vedremo se nei prossimi giorni assegnerà gli incarichi lasciati da Salamone o se coglierà l'occasione per una redistribuzione delle deleghe. La giunta municipale licodiese è integrata, oltre che dal sindaco e da Furnari, è composta dagli assessori Maria Spalletta, vice sindaco e titolare fra l'altro delle deleghe solidarietà sociale, pubblica istruzione e sviluppo economico, Gabriele Gurgone, sport, turismo e spettacolo, bilancio, igiene e sanità, Giuseppe Scandura, lavori pubblici, affari generali.